Oggi parliamo dell'espressione aprire il vaso di Pandora. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene! Bene, prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi e se vuoi prenotare una lezione con me trovi il link in descrizione. Oggi ti racconto una storia. Paolo e Anna sono sposati. I genitori di Anna sono morti e lei vuole vendere la loro vecchia casa. Contatta un'agenzia e inizia a raccogliere tutti i documenti necessari per la vendita. Anna si accorge però che esistono molti problemi a livello burocratico. Per vendere la casa dovrà sistemare molte cose. Paolo le dice Anna, stiamo aprendo il vaso di Pandora. Cosa vuol dire? Con l'espressione aprire il vaso di Pandora indichiamo una cosa stupenda, una cosa che sembra essere meravigliosa ma che può provocare delle catastrofi se qualcuno cerca di guardarci dentro e modificarla. Se conosci la mitologia greca sai che Pandora è la protagonista di una celebre storia. Secondo la leggenda Vulcano creò la donna e alcune dee dea è un dio femminile e il plurale è dee con due e quindi alcune dee le offrirono dei doni dei regali Per esempio Minerva le diede l'attitudine ai lavori femminili Venere la bellezza Il significato del nome Pandora è proprio tutti i doni tutti i regali Gli dei le regalarono anche un vaso un contenitore una cassa molto bella molto attraente e la avvertirono di non aprirla Prometeo avvertì Pandora le disse di non aprire questa cassa perché sicuramente nascondeva qualche inganno Pandora non riuscì a controllare la sua curiosità aprì la cassa da cui uscirono tantissime cose negative come malattie catastrofi sciagure che si sparsero tra gli uomini Pandora cercò di chiudere il vaso ma ormai era troppo tardi Come puoi capire dalla storia aprire il vaso di Pandora significa entrare in una situazione che sembra positiva che dall'esterno può sembrare attraente bella ma che poi rivela dei problemi dei conflitti delle cose negative se Anna vuole vendere la vecchia casa dei genitori e Paolo le dice Anna stai attenta perché stai aprendo il vaso di Pandora le vuole dire che per vendere la casa Anna dovrà affrontare molti problemi Ok anche per oggi abbiamo finito io ti ricordo che se vuoi supportare questo podcast puoi offrirmi un cappuccino sul mio Patreon o puoi prenotare una lezione con me noi ci sentiamo domani ciao ciao